Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Tutti assolti per la frana di Zumpano, per i giudici del Tribunale di Cosenza, il fatto non sussiste. Il Pubblico Ministero aveva chiesto per i tre imputati la pena di un anno e otto mesi di reclusione. L'episodio, la frana, risale al 2 marzo del 2011. Tutti assolti perché il fatto non sussiste e la sentenza è messa dal Tribunale di Cosenza al termine del processo sulla frana di Zumpano nei confronti di Claudio Carelli, ex sindaco di Zumpano, Ovidio De Irolamo, legale rappresentante del gruppo Lidl, Carlo Simeoli della Dual Village che nell'area ha costruito l'Andromera River. La frana si verificò il 2 marzo del 2011 quando una parte del costone venne giù. I detriti colpirono il supermercato Lidl. Erano le 7.30 del mattino. Non ci furono vittime, nessuno rimasse ferito. Per puro caso, per molti, per interventi fatti con scienza e accuratezza invece secondo i legali che hanno difeso gli imputati. Dopo quell'episodio, la procura di Cosenza avviò le indagini e a processo finirono i rappresentanti legali delle due attività commerciali coinvolte e l'ex sindaco di Zumpano. Per i tre, il Pubblico Ministero aveva chiesto la pena di un anno e otto mesi di reclusione. Per gli inquirenti in quell'area non si sarebbe dovuto costruire, da qui secondo le accuse, la responsabilità degli amministratori e dei commercianti che avrebbero dovuto agire per salvaguardare prima di tutto l'incolumità pubblica. I legali degli imputati però hanno contestato punto per punto i capi d'accusa e oggi è arrivata la sentenza di assoluzione.